Attacca Skype, l'hai acceso, funziona, bravissimo, e il pesito vuole spegnerlo, è un po' difficile però, vedo che ce la fai, perfetto, devi fare sulla X, bravo, provi 2-3 volte, è vero, casomai, bravo, ce l'hai fatto, prova attacca Sport Andrea, Sport, sì, Sport, ecco, adesso cosa si vede? Il film, eh, il film, ok, e sta funzionando, perfetto, sta caricandosi, perché qua siamo in montagna, l'è un po' lento, o no? Sì, Andrea, ti piace guardare più Skype o guardare i film e sport? Tutte e due, ok, tutte e due, e guardare i film ti piace Andrea, davvero? Sì, allora, tu usi il computer per guardare queste cose, anche a scrivere qualcosa, Allora, chiudilo, perfetto, allora, e per leggere il giornale dove vedo? Qua, prova, ma tu lo leggi o lo guardi il giornale? Lo guardi, hai imparato a leggere? Sì o no? No Si fa ancora fatica? Sì Però, non importa, allora, a volte basta guardare e leggere il giornale, adesso sta venendo su, qua la rete è lenta, ok, dai, saluta a tutti Andrea Ciao Ciao, allora, serve il computer Andrea? Sì A cosa ti serve? A fare compagnia? A fare compagnia, a fare compagnia Quanti anni hai Andrea? Beh, è di due Fantastico, ciao, saluto a tutti Ciao Ciao